Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi di cinque espressioni molto, molto utilizzate tutti i giorni, nelle conversazioni di tutti i giorni, che vi possono essere davvero utili per aggiungere informazioni alle vostre frasi. Queste cinque espressioni hanno una particolarità, cioè contengono ci oppure ne. Quindi, se ancora non conoscete bene ci e ne, oppure non sapete come usarli bene, vi consiglio di andare a guardare quelle lezioni prima di guardare quest'altra, però potete fare quello che preferite. Io qui ho il computer, quindi se guardo di lato è perché sto leggendo gli esempi che ho scritto e che voi invece leggerete qui sullo schermo. Allora, le cinque espressioni di cui voglio parlarvi oggi sono Ne ho sentito parlare, ti ci abituerai, facci caso, non ne ho voglia, mi ci trovo bene. Quindi abbiamo due espressioni che contengono ne e tre espressioni che contengono ci. Iniziamo subito con degli esempi. Non ho visto quel film, ma ne ho sentito parlare. Quindi, I haven't seen that film, but I've heard about it. Ne ho sentito parlare è il risultato della combinazione di sentir parlare e della preposizione di. Quindi noi usiamo qui ne, che è il pronome, per sostituire di quel film, perché appunto sentire parlare vuole poi la preposizione di. Quindi sentir parlare di qualcosa o di qualcuno. Per questo motivo, noi possiamo sostituire il complemento di specificazione, che in questo caso è di quel film, con ne, dicendo semplicemente ne ho sentito parlare. Va bene? Questa frase è davvero molto utilizzata nella lingua parlata di tutti i giorni e penso che vi sarà molto utile nelle vostre conversazioni. Poi. È solo un mese che vivi lì. Ti ci abituerai. Ti ci abituerai significa you will get used to it. You'll get used to it. Perché utilizziamo ci qui? Perché il verbo abituarsi vuole poi la preposizione a. Abituarsi a qualcosa o a qualcuno. E quindi poi sostituiamo il complemento che segue con ci. Quindi già abbiamo ripassato che possiamo usare ne quando nella frase dobbiamo sostituire un complemento di specificazione introdotto dalla preposizione di. E possiamo utilizzare ci quando dobbiamo sostituire un complemento indiretto introdotto dalla preposizione a. Poi. Simona si comporta in modo diverso. Facci caso la prossima volta che la vedi. Facci caso significa fare caso a qualcosa. Quindi ritroviamo la preposizione a. È per questo che noi possiamo usare ci. Facci caso significa pay attention. Quindi pay attention to her behavior next time you see her. Facci caso la prossima volta che la vedi. Poi. Dovrei andare a fare la spesa ma non ne ho voglia. I should go grocery shopping but I don't want to. Non ne ho voglia. Non ho voglia di fare questo. Non ne ho voglia. Anche questa è una frase che potrebbe esservi utile quando volete dire che non avete voglia di fare qualcosa. L'ultimo esempio è. I miei colleghi sono simpatici. Mi ci trovo bene. Quindi my colleagues are nice. We get along well. Mi ci trovo bene. Quindi io mi trovo bene con i miei colleghi. Possiamo usare ci anche quando il complemento è introdotto da con. Quindi mi trovo bene con loro. Mi ci trovo bene. Trovarsi bene con qualcuno significa andare d'accordo con qualcuno. Vi faccio un altro esempio con questa espressione. Ho acquistato un nuovo programma per montare i video. Mi ci trovo bene. Mi ci trovo bene. Mi trovo bene con questo programma o mi trovo bene ad usare questo programma. Quindi mi piace usarlo. Mi ci trovo bene può anche essere utilizzato per dire mi trovo bene in un posto. Ho traslocato in un nuovo appartamento. Mi ci trovo bene. Sto bene nel nuovo appartamento. Allora, si sta facendo buio. Sta tramontando il sole anche se sono solo le 5 e 11 minuti. Anzi, le 17 e 11 minuti. Spero che questo video vi piaccia. Spero che lo troviate utile. Ovviamente, se avete domande o dubbi, lasciateli nei commenti qui sotto. Che altro dire? Vi ringrazio, come sempre, per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto. Ciao! Ciao!